Salvini, Salvini, ma che dice, Simone? Simone Salvini, il fuoco vegano! Ah, una roba politica. No, ma io l'ho messo fuori dalla politica. Fuori da tutto. E ci vorrei anche restare fuori. Ma che è niente, niente quello con i dentini che ci sei governato insieme? Ma quale? Quei ragazzotto che l'hai venuto a scena da me in villa? Ah, simpaticone! Ha portato pure le paste! La bottiglia di vinsanto da bere con Cantucci! Un fucile a canemozze per i ron che c'entra in casa! Poi è uno che, per il suo lavoro, c'ha tanti incarichi da assolvere! Beh, certo! Assolvere, assolvere! Assolvere! Come non può? Scusa, fammi capire. Questo l'hai venuto a casa mia? Si è scadonchiato pure il ghiaccio del frigo? Ma poi Maremma Maiale appena arrivato quando ha aperto la porta l'ho visto vestito da poliziotto! Madonna Bonina!